musica 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 e seve a tutti ragazzi qui è questo nuovo video siamo qui oggi con questo nuovissimo gameplay su fear 3 ragazzi questo gioco non l'ho mai fatto sul mio canale ci ho venuto aspettate un attimo ragazzi che pure abbasso il volume perchè è veramente un macello un attimo soltanto vado sul mixer ok ok abbiamo abbastato di parecchio volume stavo dicendo ragazzi questo gioco non l'ho mai fatto sul mio canale nessuno nessun gioco di questa serie ma questa serie mi piace parecchio quindi ho deciso di farvi un complet di questo fear 3 sperando che comunque abbia mi gira bene perchè come sappiamo questo gioco è più recente rispetto agli altri che ho fatto sul mio canale per esempio call of duty 1 salandreas e tutti i giochi così questo è uscito nel mi pare non vorrei dire una cazzata nell'estate del 2011 quindi anche abbastanza recente e ho messo tutto veramente al minimo infatti potete vedere che è tutto al minimo e mi lagga anche parecchio ma noi proviamo comunque a fare questo gameplay a giocare un pochino vediamo qui un po' tutto un po' distrutto tutto un po' ucciso e non so che cosa dobbiamo fare noi siamo scesi da qui giusto giustissimo allora dobbiamo aprire questa porta si ok non mi guardo i tasti ragazzi vediamo occhio mi hanno visto mi hanno visto mi hanno visto questo gioco integrato ragazzi dovrebbe essere un horror ma di horror c'è veramente poco e ve lo posso assicurare perchè i giochi horror ne ho giocati parecchi e questo non è tra quelli questo è più uno sparatutto con a volte diciamo che è più un resident evil in prima persona lo definirei così poi c'è una bella intanto ragazzi abbassa un attimo la sensibilità del mouse ragazzi perchè già mi già mi lagga parecchio poi c'ho la sensibilità ecco sensibilità di mira magari abbassiamo così un po' che è uguale al primo vabbè eh non fa niente c'è un attimo oh c'ho il cecchino ragazzi non lo davo mamma mia che headshot mamma mia che headshot ok vi propongo questo gioco ragazzi perchè comunque è abbastanza carino e volevo un po' farvi vedere magari qualcuno di voi non lo conosce ehm la serie fear comunque il primo è veramente spaventoso e un giorno probabilmente farò anche il il gameplay completo ma non so è un dubbio bisogna vedere sempre quanti a quanti di voi piace tazzo ne bomba 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 ok ok perfetto con il nemico mori pezzo la merda oh mettiamo ah il bello di questo gioco ragazzi si può mettere tipo la slow motion quando ci piare quando ci piace quando ci piare ma che cosa dico quando ci piace piace oh non riesco a parlare quando ci pare e piace ecco l'ho detto finalmente ok continuiamo ad usare il nostro cecchino perchè qui ci stanno un po' distruggendo chi è che mi spara questi proiettili di merda eccolo dove stai io sparò là e non l'ho ucciso eccolo mamma mia c'è che va sull'ultimo colpo andiamo andiamo muoverti oh l'ho detto un po' danno scoop però fatto un po' schifo ok prendiamoci che abbiamo qui fuciapompa oppure prendiamoci la pistola la pistola mi ispira la pistola ok perfetto un po' di munizioni con il sinistra di robaccia tratta munizioni in raccolte no tratta munizioni in granade in raccolte un po' qui chi è qui sto? ok passiamo di qua salitiamo un tanto i cogitan jade che appare ancora una volta nel nostro gameplay oh mattine sede ma si tira la bomba? così no ma l'ho tirata pure loro maledetti dove stai? perfetto è morto siamo tanti po' mettiamo un'opera come sto slow motion qui cosa troviamo? vabbè abbiamo le stesse armi noi praticamente non perdete di vista il bersaglio ok questo che vuole? ma se faccio tipo una cosa così metto slow motion pam 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 mamma mia che uccisione mamma mia lo vediamo che qui sempre scermo prendendo tanto le granate granata fulmina g premio per lanciare granate in grado di fulminare ok va bene toاخaches praticamente in corso sapato di corso perfetto fino a qui ci sono mai arrivato ragazzi perchè questo gioco non l'ho mai finito dire la verità, dire la verità non è nemmeno tanto che ce l'ho ho provato una volta, sono arrivato al secondo capitolo e oh non c'è più giocato no mi ero presa no perchè sono andato incontrata bomba sono andato incontrata bomba maledizione maledizione a qui si può anche mettere così sul mio ragazzi perchè negli altri fiori non ci stava questa è una novità cosa di poter sentire lì ci sta un robot ragazzi cioè ok me l'ho distrutto la barricata mi dobbiamo mettere dall'altra parte guarda un po' che c'è sta tipo un robot poi sta giocatore a transformers come si trasforma la macchina mi viene tipo addosso oh ma che cavolo uomo qui c'è sta un altro ancora ne è finito devi morire devi da morire oh ma che non more perché ma che succede oh ma che non ma perché non cioè togliamo la slow motion cioè si scorda delle valli dai che stai per scoppiare oh ancora non ma perché non muore bomba 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 attenzione 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 ci stanno uccide ci stanno uccide ci stanno uccide ok non siamo morti ancora perché non esplode oh finalmente finalmente oh chiediamo un mazzasso deficiente qua dove sta mi sonna super adesso guardate i riflessi della luce ragazzi non sono niente male considerando che sto giocando anche tutto al minimo sono fatti abbastanza bene oh ma vuoi morire chi è oh 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 che ho visto un'arma tipo che non ho mai visto aspetta tutto mazzasso pezzo del merda che arma c'è io a questo no non si sta più vai se l'arma tipo troppo bella che è qua? ah ecco come devo distruggere i robot pensate come abbiamo ormai ah no non devo distruggere i robot con questo oh si ci devo distruggere la ormai lo usiamo per i nemici bam ci è rimasto l'ultimo vediamo se se esce qualcuno no mi sembra di no eh eccolo 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 perfetto prendiamoci il nostro ump45 scendiamo giù ok munizioni munizioni perfetto ragazzi dai ok per questo episodio possiamo cioè no per questo episodio questo non è un episodio è un gameplay così a random quindi no mi si chiusa la porta voglio usci voglio usci voglio usci voglio usci vabbè non mi fanno usci comunque ragazzi anche per questo video è tutto se il video è piaciuto mi è sempre un video lasciare mi piace se questo gioco vi piace ragazzi non so se posso farvi l'explay completo perché comunque come potete vedere lagga parecchio il gioco se lo registro quindi non credo che potrò fare una serie comunque se il video è piaciuto mi è sempre un video lasciare un piaccio e commento se lo è già iscrivetevi al mio canale iscrivetevi anche nella pagina di facebook che trovate nella descrizione di questo video e niente ok ci vediamo tutti ci vediamo al prossimo video piaccio tutto e bye bye